Compagni e sorelle, siamo lontane geograficamente, però molto vicine nelle nostre idee e pratiche libertarie. Insieme a voi, diciamo che in questa guerra portata avanti contro l'umanità, noi, le donne dei popoli originari, stiamo alzando la nostra voce e ci organizziamo e mettiamo in cammino per la liberazione dei nostri popoli e di noi altre donne, che rappresentiamo la metà della comunità umana. Riconosciamo. Diamo valore alla vostra lotta, perché tutte le lotte di qualsiasi donna in qualsiasi parte del mondo ed in qualsiasi tempo della storia che lottano, si ribellano e propongono di costruire altri cammini di vita di fronte al mostro patriarcale capitalista che ci opprime, a una lotta degna che deve renderci sorelle. Crediamo fermamente nel recuperare l'importanza di fermarci a partire dalla nostra comunità, non per scontrarci, ma per organizzarci con i nostri fratelli ed i nostri popoli. Questo sistema capitalista patriarcale di morte ci colloca, a noi donne, nella posizione più infima, la più scomoda, la più dimenticata e la più repressa, ma non solo colpisce a noi altri, ma anche i nostri fratelli. Però, se la comunità è malata, lo è ancora di più per noi donne. Abbiamo detto, io basta. Adesso basta che la nostra voce non sia presa in considerazione, di ritornare nell'oblio dopo il risveglio generato dalle nostre compagne e compagni zapatisti più di vent'anni fa. Adesso diciamo che è giunta l'ora della feritura dei popoli ed è giunta l'ora della dignità di noi donne, che nuovamente stiamo dando voce alle nostre lotte e continueremo a farlo. Di fronte a questo impeto del sistema capitalista che vuole sterminarci, noi altre, le donne indigene, diciamo che non faremo nemmeno un passo indietro e che lotteremo. Ci organizzeremo con le nostre ribellioni e resistenze. Affronteremo questo sistema che ci vuole desaparecidos, desaparecidas e continueremo a dire che non lo permetteremo. Raccogliamo l'appello delle nostre sorelle palestinesi, detenute politiche nelle carceri israeliane. Vogliamo dar voce alle loro rivendicazioni e alle loro lotte. Pochi giorni fa Halida Gerrar è stata condannata da un tribunale militare illegale israeliano a due anni di reclusione perché la sua lotta per i diritti del popolo palestinese e delle donne palestinesi rappresenta un pericolo per il regime di apartheid israeliana. Le rivendicazioni femministe delle donne palestinesi assumono, infatti, una portata rivoluzionaria perché sono in grado di mettere in discussione diversi sistemi di dominio, il patriarcato e il colonialismo. Diamo voce a Halida Gerrar, Maise Bouhoj, Hebel Abedi e tantissime altre donne palestinesi che sfidano in prima persona i sistemi di potere contro cui tutte noi combattiamo. Con il ricordo vivo delle nostre sorelle e fratelli che sacrificarono la propria vita nella costruzione di sogni che continuano ad accompagnarci, vi salutiamo, vi abbracciamo e vi diciamo grazie. Sorelle del popolo delle montagne, lontane dalla distanza e vicine ai nostri cuori, che sappiamo vivono, si organizzano, lottano e muoiono per la liberazione di tutte le donne e tutti i popoli del mondo. Che vivano i popoli originari del mondo, viva la fratellanza dei popoli, viva la degna lotta di liberazione delle donne.